Siamo qui con Andrea alla nuova Fiera di Roma all'Auto Tuning Show 2013 e lui è rappresentante di un club BMV, il nostro club lo trovate su internet Art e Art bmv.it, cuore bmv, ecco questa la dichiara, tu hai la M3? No questa è del mio socio, il tuo socio che sta qui, ho anche io una maglietta della BMV la diamo subito, 100 euro, ok, scontata dai, bellissima, abbiamo quello il cappellino questa è una M3, bella, eccola qua, poi abbiamo qualche altra, quella lì, la tua, di Andrea, che modello è questa? un 330XD, 330XD, la riprendiamo anche da qui, e poi di là abbiamo un 320, un 320, fate diverse fiere? Esatto, si facciamo fiere, raduni, il 3 marzo saremo a Guidogna, all'H24 saremo, all'H24, sulla di Bortino? si, comunque sul sito ci sono tutte, il 3 marzo 2013, sul sito ci sono tutte le nostre indicazioni sarà un evento esclusivo solo BMV? solo esclusivamente BMV, si esatto quindi 3 marzo 2013 via di Bortina, locale a T24, lo trovate 500 metri prima di Bilo di Guidogna si esatto, un locale che è dedicato proprio alle auto, auto in moto, ok, eccole qua, quindi chiudiamo con il marchio BMV sulla maglietta di Andrea, ciao a tutti